cosa faccio e per ogni cittadino per ogni raffineria ci vanno fino a 3 sccb quindi mandare direttamente nel qualcosa qui per la raffineria ciao a te ciao mi hai spaventato ma c'è non cerca m prete già ho costruito un piccolo esercito dall'altra parte quindi così già li potrei far fuori ah ma perchè ti vuole casermene per costruire da tutti i pali il male vuoi costruire anche la tua bata e farle decollare e farle avere il alla base nemica per esempio mi ha scoppiato una toncina perchè è partito tipo una canzone di di baglioni baglioni no sembra tipo blue di ice di cabal vista mai cattiva notizia sentita male canzone armato e pronto bazzito corona è entrato dalla finestra della casa di sarascazzi facciamo le cose per bene ragazzi corona si perchè voleva fa mega scoop via 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 ma la faccio chi è che vuole baglioni ma perchè mi si affaccia la gente proprio sopra ai tasti non sopra aiutati ma quando sono ben organizzati quindi come veci si coltà è insana ma porta al due ma c'è il pre pre cosa porta al due è il gioco ma Paradox tipo no no su Steam ah vabbè lo so ma non è che si può comprare già Racist 2 su Steam ce l'apre l'ora è per questo decolla decolla vai qui gioco della roba ah brotherhood brotherhood l'ho fido da 6 mesi vai solo con la base e anche la caserma per tutti gli altri gli SCB vedi se riesci a farli mandare cazzo io non riesco perché c'è ecco la figura di Salon mi distruiva la casera porca troia ma siccome da Steam Scraffa è una strada di spavanti scraffia la solo la base mi guarda su tipo 1 la mia casera mi stai sputtando la casera non la faccia mi stai sputtando la casera mi stai sputtando la casera si stai sputtando la casera comunque ti ho mandato in un bel posto qui perché ci sono i giacimenti ad alto rendimento sia di gas che minerali quindi sono solo 10 ma i nostri SCB praticamente ti ti prendono ogni SCB ti porta 5 minerali al posto di 3 non ho voluto te però agizzerni io sono avvenuto di solo la roba e cazzo a me fa niente io non sono ancora crepato io sono coperto dai massi eccoli qua va sono lì però stai attendo lì lo deve sorvegliare più di quando più di quelli che non sono coperti dall'altra parte da una cazzo di caserma muoviti eh parla di qua parla davanti SCB pronto Scannonbo oddio dove sono arrivati questi decolla 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 alla basso manda gli SCB gli SCB contro i nemici per far distrarli dalla fase scottati vado a scappatrare con la base che cazzo che vale vado a me che cazzo ci ha passati stai a guardare i massi i nostri SCB sono sotto attacchi ma proprio i nostri SCB sono sotto attacchi sono sotto attacchi scottati crea sempre SCB fammi atterrà fai una cosa quanti minerali hai? grazie a tutti grazie a tutti